Ricicla, riusa, la 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 eeeh! Ricicla, riusa, la 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 eeeh! Raggiungere ed educare i giovani attraverso la musica, Non mi rifiuto, è la prima campagna di sensibilizzazione a favore della raccolta differenziata dei rifiuti promossa utilizzando il rap. A realizzare la campagna Ancitel Energia e Ambiente con il patrocinio di Anci e del Ministero dell'Ambiente in collaborazione con diversi consorsi che si occupano di riciclo. Parole, musica e video della canzone sono di Marco Lena in arte e blebla, autore molto amato tra i giovani. Si è rotto il computer, ricicla il RAE, tanto poi è roba che si rigiova, usiamo una cosa vecchia per rifarmi una nuova. Non mi rifiuto, voglio la mia terra pulita. La campagna di educazione ambientale sarà la prima a chilometro zero. Tutti i comuni d'Italia potranno scaricare gratuitamente il format Non mi rifiuto e utilizzarlo per promuovere sul proprio territorio le buone pratiche di raccolta e riciclo. Si tratta di una campagna di comunicazione, spiega Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa. La difesa dell'ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell'agenda politica italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l'elemento essenziale nel passaggio da un'economia lineare ad un'economia circolare. Una sfida nella quale i comuni giocano già e dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro un ruolo di primo piano. Consigli utili, insieme alla viralità del web, costituiscono insomma un esempio da replicare. Non mi rifiuto, voglio la mia terra pulita, non mi rifiuto, voglio respirare la vita, non mi rifiuto di fare la raccolta differenziata, basta un minuto per ripulire la mia giornata. Ricicla, riusa, la 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 la. Ricicla, riusa, la 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 la.